Al momento abbiamo un uovo antivirale che è stato autorizzato per la sua distribuzione a fine dicembre 2021, quindi una cosa veramente molto molto recente, ed è un uovo antivirale che aggiunge un'arma molto importante alle terapie domiciliari che sappiamo insomma sono sempre state un po' scarse. Essendo anche un farmaco a somministrazione orale quindi è molto semplice per quello che riguarda l'assunzione. Non richiede particolari monitoraggi, ecco. Abbiamo inizialmente cominciato con una scorta di 30 confezioni, quindi sostanzialmente di 30 trattamenti e attualmente a nemmeno due settimane insomma dall'inizio e dall'emissione della nostra procedura abbiamo 8 trattamenti che sono stati somministrati. Poco fa mi è arrivata la richiesta del nono, quindi a mio avviso insomma sono numeri molto buoni e i pazienti sostanzialmente che sono candidabili a questo tipo di terapia sono pazienti che hanno quei fattori di rischio che abbiamo imparato ovviamente in questi due anni determinano un maggiore rischio di progressione verso la malattia grave e quindi sono pazienti sostanzialmente con obesità patologica, non ospedalizzati ovviamente per covid, con un covid lieve e moderato sostanzialmente, quindi pazienti che non sono in ossigeno terapia e quindi questi pazienti con i fattori di rischio come dicevo obesità patologica, alterazione della funzionalità renale ed epatica, pazienti con malattie cardiovascolari gravi, malattie polmonari gravi, immunodeficienze, pazienti diabetici in scarso compenso e pazienti oncologici. Questo farmaco non è somministrabile ovviamente in età pediatrica e sostanzialmente insomma bisogna avere un'attenzione maggiore nelle donne in età fertile, quindi viene richiesto ovviamente l'esclusione di una gravidanza in atto. Che decorso ha diciamo la cura con questo nuovo farmaco? Quanto dura? È vero che avete iniziato da poco ma se state vedendo anche un po' come sta andando sui pazienti che lo stanno ricevendo? Assolutamente sì, allora la cura prevede sostanzialmente due somministrazioni giornaliere a distanza di 12 ore e in particolare sono 4 compresse ogni 12 ore sostanzialmente per 5 giorni. La cosa importante è che come la maggioranza degli antivirali deve essere somministrato precocemente, quindi entro i primi 5 giorni dall'esordio dei sintomi. La terapia stessa dura 5 giorni e abbiamo effettivamente cominciato da poco. I pazienti che sono in trattamento o l'hanno sostanzialmente appena finito o l'hanno finito da pochi giorni o lo stanno ancora facendo ma da quello che possiamo vedere, ripeto, sono veramente pochi i trattamenti ma i risultati sono veramente, veramente positivi. I pazienti hanno avuto proprio una risoluzione dei sintomi in pochissimi giorni e al momento nessuno di questi ha richiesto un'ospedalizzazione o ha manifestato una progressione della malattia. Sappiamo che la progressione della malattia sostanzialmente in 7, 5, 7 giorni si vede quindi ci sembrano dei dati veramente confortanti.